Sembrerebbe che Amici 20 abbia giovato a Tommaso Stanzani non solo in termini lavorativi, ma anche in materia sentimentale, stando alle indiscrezioni rivelate da chi infatti. Tra il ballerino di Bologna e Tommaso Zorzi sarebbe stata proprio Maria De Filippi a fare da Cupido. Pare che subito dopo il GF VIP, la conduttrice avrebbe invitato il vincitore delle reality per un caffè. Con l'occasione, gli avrebbe mostrato lo studio del suo talent show, dove erano in corso le prove. Proprio in quella circostanza sarebbe scattata l'attrazione fatale tra i due ragazzi. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, che ormai ha definito ufficialmente il suo fidanzato, hanno lasciato la Puglia dopo giorni di amore relax tra una registrazione e l'altra di battiti live. Lo show musicale che andrà in onda su Italia un al quale l'ex concorrente di Amici ha partecipato come membro del corpo di ballo. Sembra che il talent di Maria De Filippi abbia giovato non solo in termini lavorativi a 19enne bolognese, ma anche in materia sentimentale perché, stando alle indiscrezioni rivelate dal settimanale chi sarebbe stata proprio Maria a fare da cupido tra lui e il vincitore dell'ultimo grande fratello VIP. A giugno sui social le prime sporadiche apparizioni insieme, i weekend di Zorzi a Bologna, città natale del ballerino. Poi il viaggio in Puglia che sembra aver fatto esplodere la passione. I due ragazzi non hanno mai parlato apertamente del loro rapporto, né di come si siano conosciuti. Il settimanale di Alfonso Signorini parla di un incontro avvenuto grazie alla padrona di casa di Amici. Idolo indiscusso di Tommaso Zorzi che aveva già avuto modo di conoscerla con una sorpresa organizzata per lui al GF VIP. Pare che subito dopo la fine delle reality, la De Filippi avrebbe incontrato Tommaso per una chiacchiera e con l'occasione gli avrebbe mostrato dietro le quinte del suo talent show. Dove erano in corso le prove, la conduttrice ha portato il vincitore delle reality a vedere la nuova scenografia di Amici. Che in quel momento era in fase di preparazione. In quel momento Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show ed è stata lì che è nata, scattata, esplosa l'attrazione. Maria per te caffè e fotocopie. Tommaso Zorzi non ha mai nascosto di avere un debole per Maria De Filippi. La donna della tv con la quale sogna di poter lavorare. Si era detto disposto a tutto durante quell'incontro tra le mura della casa. Quando per la prima volta aveva scambiato una chiacchiera con la conduttrice. Lei, dal canto suo, ha dimostrato non aver messo gli occhi più volte sul giovane influenciere lo aveva riempito di lusinghe. Dopo la sua esperienza al reality, finora non si era mai parlato del loro presunto incontro di persona. Mentre i fan sognano una collaborazione tra Zorzi e la regina del sabato sera. Sono ancora in corso le trattative che riguardano Stanzani, come parte del corpo di ballo professionista, per la nuova edizione di Amici.